Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo la foresta nera da forno. La foresta nera da forno è una torta al cioccolato e amarena, è come la foresta nera. La mettiamo dentro, così. Quindi la lezione per la nostra foresta nera da forno è terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!